Stai guardando la guerra a te? 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 vigiforme disegnata da fresco sul uomo d'arme ha detto vabbè lo ristampiamo noi infatti è uscita la versione completa perché è il fumetto completo più hai un capitolo aggiuntivo che chi l'ha letto tra di voi è quello del beneficio Lambrate che è esattamente un capitolo in più fatto apposta per il luogo dove io passo i pomeriggi a scrivere perché a me piace molto il rumore bianco della birreria e quindi non potevo non dargli omaggio di questo capitolo aggiuntivo questo è un po' tutta la storia editoriale piena di colpi di scena tant'è che non può neanche parlare della sottotrama che ha avuto anche di altri disegnatori che si sono susseguiti finché poi non c'è stato il suo delizio artistico tra me e Luca dove siamo proprio esattamente Ying e Yang sembriamo Ciuchino e Shrek quindi è questo suo delizio che spero che continuerà a dare altri frutti quindi speriamo bene quindi questo è più o meno la storiella spero che esca un film perché come racconto si presta una trilogia credo però di una possibilità diciamo che c'è questa possibilità che si possa avere anche una trasposizione cinematografica Francesco di questo racconto non so se Peter Jackson dopo che ha fatto Lobbit ha spremuto un libro ci ha fatto tre film potrebbe tranquillamente fare tre film su un fatterello che ho raccontato io io adesso da tutto può essere Jackson mi aspetto qualsiasi cosa mi aspetto che tiri fuori una trilogia anche delle istruzioni dell'Ikea quindi porti una domanda abbastanza stupida su Ramiro qual è il tuo rapporto qual è il tuo rapporto con i talent a questo punto sono curioso visto che adesso non voglio fare spoiler ma qual è il tuo rapporto con i talent soprattutto i cuochi in questo caso io credo che il mio rapporto con i talent è che non penso che ci sia veramente tanto talent io penso che sia sempre la parte narrativa la gente piace la camurria come si dice a Napoli adesso io non sono napoletano però mi piace la confusione mi piace la parte narrativa la fiction cioè i dettagli alla fine di cosa ti rimane impresso la storia del tipo che alla fine ce l'ha fatta oppure la storia d'amore è nata tra le varie cose quindi io sono per il fatto ma senza cattiveria è che quando tu partecipi a un talent io credo che quello che tiri fuori non è tanto il talento ma ovviamente la fiction stai venendo a televisione questa cosa qui l'ho voluto raccontare il Ramiro quando mi dicono ma in Ramiro c'è qualcosa di vero no io secondo me sono così però non è verità questo è il mio punto di vista mio non volevo assolutamente gettare maschere a talent o non so se sono finti come in Ramiro però quello che mi viene in mente a me è banalmente noi stiamo raccontando una storia non è una vera come ti posso dire il reality la parola reality secondo me è uno simono in televisione quindi per quando possano spacciarci la verità assoluta c'è sempre secondo me qualcuno che muore burattini un po' come quei videogiochi che dicono hai tutte le scelte aperte ma in realtà in modo scriptato ti guidano verso 4 o 5 bivi cioè ti sembra di avere la scelta ma non ce l'hai adesso non so se ho fatto un supercazzo o se hai capito quello che ho detto ho capito bene quando ho fatto dei videogiochi mi è venuta in mente una in particolare che dura una trilogia che ti fa fare tutte le scelte del mondo ma al final è vero esatto l'hai presa in pieno Mass Effect ecco vai Gianluca vai volevo volevo chiedere qual è a questo punto il rapporto tra un pugliese e Milano perché Milano comunque è uno sfondo importante per il racconto di Ramiro allora io già mi sono beccato grandi insulti dopo non so se avete sapevate del video il terrone a Milano quando l'abbiamo visto difendevo Milano dai meridionali che mi sono preso delle lettere aperte dai giornali che mi dicevano che non potevo più dire la parola terrone va bene il partito neoporbonico non l'ha presa molto bene mentre poi banalmente Sindaco Sala invece sì quello che io penso di Milano è quello che ho messo anche nel fumetto cioè io penso che Milano sia un'ambasciata del sud cioè parlare male di Milano è come parlare male di casa propria perché conosco più napoletani a Milano che a Napoli più ramani a Milano che a Roma questo è banalmente è una specie di ambasciata un orfanotrofio dico il Ramiro un orfanotrofio che accoglie tutti perché accoglie tutti perché qualcuno è orfano di qualcosa cioè quando io nel monologo raccontavo della persona che viene qui a fare verità per suonare la chitarra eccetera e cose così perché giù magari non c'era questa possibilità e perché banalmente non c'è quindi quello che dico io è Milano è a tutti gli effetti un'ambasciata territorio il nostro territorio è un terra straniera tra virgolette quindi non capisco tutta la rabbia verso la città a parte ovviamente la questione del caro prezzi e della sicurezza ma quella è una questione amministrativa non è una questione per sé però Ramiro la vede con occhi differenti perché viene sempre rappresentata come cupa grigia fredda piena di nebbia invece Ramiro in una pagina in una tavola fa un riassunto completamente diverso da Milano perché la vede con occhi differenti beh Ramiro diciamo che la storia è abbastanza un illuso cioè tu vedi nell'interno della storia la sua man mano la sua disillusione perché man mano che entra nella realtà capisce che non è come se l'immaginava quindi diciamo che quello di Milano è funzionale il fatto che lui la veda in quella maniera perché poi vedremo che come tutte le cose che ci mostrano che vengono mostrate all'inizio in cui lui si rapporta con la cucina il suo coinquilino le persone che stanno a fianco la vicina di casa per esempio oppure la città vedi come cambiano in modo da sottolineare in questa maniera a meno questa l'intenzione come Ramiro è cambiato tanto il racconto quindi un cambiamento di pelle sostanzialmente cosa? come un cambiamento di pelle esatto esatto un po' era un po' il McGuffin della storia cioè McGuffin no è un po' il senso per quello che a un certo punto si vedrà nella storia una lucertola che man mano inizia a perdere pezzi questa è la è la tua prima storia abbiamo detto giusto? se non contiamo una storia breve che ho fatto per Hazard edizioni il fiore e la serpe l'uomo che cese Federico II che raccontava in chiave western gli ultimi giorni di vita di Federico II era uscito con la gazzetta del mezzogiorno in una collana fumetti per il sud che aveva in mezzo anche tipo Bizzarri Bizzarri e Nardella che hanno fatto un po' di paesi interessanti oppure Elena Mistrello quindi ha avuto anche disegnatori che hanno vinto anche il Micheluzzi era però una storia breve erano 42 tavole e quindi questa è la mia prima storia lunga cioè non è la mia prima storia non è il mio debutto ma è il mio debutto è una storia lunga ecco è del 2018 quello che sto leggendo adesso Fiora Serpe sì 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 poi Ramiro cercai di trovare un editore per tempo tanto tempo e finalmente poi ce l'ho fatta ci ho messo comunque vai vai no finisci fretta no no ho finito ci ho messo un po' dicevo è la tua prima storia no completo la domanda quanto ti sei divertito a scrivere perché penso che tu abbia messo tantissimo di quella che è la tua che sono le tue passioni i tuoi gusti perché c'è tantissima cultura pop definiamola tale soprattutto da un punto di vista cinematografico televisivo e e quant'altro perché citazioni io ne ho ne ho trovate tantissime chissà quante quante me ne sono mi sono sfuggite quindi quanto c'è di te in questo racconto beh no ci sta tantissimo anche perché banalmente come il tipo che ha fatto final fantasy pensavo fosse il mio ultimo fumetto ci ho messo tipo 4 anni riuscirà a pubblicarlo quindi poteva essere l'ultimo ci ho messo tutto quello che potevo cioè ogni io è una storia molto basic lineare perché volevo giocare sulla regia quindi c'è la regia che prende per le mani dallo shonen giapponese dal fumetto intimista italiano quello che fosse di coscienza al fumetto noir cioè tutta quella parte noir che prende un po' fa la parodia un po' di The Watchman di Rorschach che cerca il comico se avete colto lì oppure a tante altre situazioni tipo Signor Buonaventura poi fotograficamente parlando ovviamente la grande è buffata quello che c'è che devi fare è metterci tutto perché poteva essere l'ultimo perché quando mi stavo andando l'andazzo pensavo sarebbe andato a finire così poi per fortuna è andato a Underdogs lavorerò ad altre cose e poi sto proprio lavorando anche ad altri progetti che spero vengano che diventino anche loro grandi opere adesso diciamo che sto lavorando sperando che questo sia solo l'inizio e non anche perché banalmente la mia sfortuna è che essendo un fumetto riedito anche se anche un capitolo in più mi perderò tutti quanti tipo eventualmente tutte le manifestazioni sai i veri Micheluzzi eccetera quindi spero che in qualche maniera si possa tenere la luce accesa su quest'opera perché ci tengo tanto solo che editorialmente ne ha passate quindi speriamo che arrivi nelle mani giuste perché secondo me vale però come si dice ogni scarafone è bella mamma sua con questa diretta cerchiamo di dire la nostra e di spingere il prodotto che assolutamente è validissimo tra l'altro la scelta di Saldapress di curare così bene l'edizione e di inserirla comunque nella collana maestro che solitamente è una collana dedicata all'interno del catalogo Saldapress racchiude delle opere abbastanza importanti quasi da avere in libreria ecco quindi mi ha mi ha fatto piacere anche questa scelta dell'editore di inserirti in questo in questo percorso tra l'altro per chi ci ascolta e chi magari non conosce Ramiro vogliamo dire di cosa parla Ramiro Ramiro quindi chi è Ramiro e cosa vuole raccontarci Ramiro è una persona che ha un sogno come dicevano in Scary Movie è una persona che ama la cucina ma è stanco di fare sempre i soliti 4-5 piatti quindi vuole diventare uno chef famoso per fare quello che gli pare insomma però capiamo subito che in realtà lui brama la fama di per sé e quindi cosa succede lui finisce a Milano perché vuole diventare un grande chef ma essendo anche una persona molto sveglia finisce a fare il portiere di notte e quindi l'unica cosa che gli manca da provare è partecipare a un talent di cucina che viene preso soltanto che lui essendo una persona non proprio intelligente potremmo definire un idiota diventerà un meme vivente quindi banalmente farà un qualcosa che lo renderà agli occhi di tutti ridicolo non voglio dire che cosa succede perché banalmente lo leggerete però da lì lui diventerà famoso non per meriti suoi ed è un fumetto che racconta un elogio dell'errore perché bisogna fare le cose per poter muoversi nella vita e anche sbagliare comunque un passo verso una direzione la vera errore è stare fermi ed è un atto d'amore verso il mondo del fumetto perché ogni capitolo visto che Ramiro è un grande appassionato di letteratura pop sia fumetti che libri perché lui faceva il portiere di notte quindi si buttava lì a leggere a leggere a leggere come JD in Scrubs ha queste visioni che alla fine ci permetteranno a lui di vedere la vita in maniera un po' particolare tanto da finire all'interno dei fumetti che tanto amo adesso non vi posso spoilerare così però anche perché se la racconto non sono neanche così carini però diciamo che è un atto d'amore verso il fumetto racconto attraverso una comedia romantica che ricorda un po' Budi Allen barra Scrubs e parla di cucina possiamo dire che è un po' più o meno così che dici Gigi come sì 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 diciamo che la come dicevi hai usato più più pretesti alla fine per raccontare quella che è un po' il significato di questo racconto cioè quello come hai detto tu poc'anzi di buttarsi nella vita perché rimanere fermi e immaginare solamente che qualcosa possa accadere alla fine non accade nulla il nostro protagonista anche inconsapevolmente con una buona dose di incoscienza diventa alla fine un protagonista ma per meriti che non erano diciamo per meriti casuali e non per meriti che lui che lui ricercava insomma tra l'altro molto bello il personaggio del coinquilino ti posso dire che ci sta gente che chi lo odia e chi lo ama perché banalmente ti dico già Ramir è nata come prequel di una storia tutta su Frankie bellissima addirittura infatti ho fatto tipo a scuola di sceneggiatura al professore io scrisci la storia di Frankie no ma guarda è troppo sboccata era una roba in stile tipo amici miei tra in spotting e quindi ho fatto vabbè sto conto scrivo qualcosa sul coinquilino suo chiamato Ramiro e ho creato Ramiro così quindi è un prequel di Frankie quindi sembra quasi un grillo parlante sotto acidi sostanzialmente quindi è senza filtri ma però sono contento che ti piaccia perché è uno dei personaggi più odiati dell'album no no è meraviglioso il personaggio bellissimo è molto bello il personaggio di Frankie anche perché tende a riportare Ramiro con i piedi per terra o almeno quello che secondo lui vuol significare essere con i piedi per terra e poi di base c'è un forte legame comunque tra i due c'è un bene un amore di base che li lega e che comunque li diventano necessari al alla storia stessa diciamo che tra i loro c'è un po' di amore tossico nel senso sono dipendenti uno dall'altro è quello è un rapporto disfunzionale che non è proprio il problema di Ramiro è che se tu li quali da vicino nessun personaggio è un personaggio positivo è un po' quello cioè ti sembrano tutti gradevoli adesso non vogliono per fare paroloni però è come Tony Soprano che dall'inizio della serie ti sembra una persona anche affabile di brillante poi ti accorge che è un gangster senza scrupoli e allora un po' lo inizi un po' a rinquadrarlo cioè il conto di Breaking Bad in Breaking Bad il personaggio si incattivisce diventa sempre più incattivito invece in Soprano lui è sempre stato un orribile nella serie e tu man mano scopri che persona è non è che c'è un'evoluzione del personaggio c'è un disvelamento è la stessa cosa provato a rifarlo in Ramiro tutti i personaggi ci sembrano chi più chi meno anche abbastanza realizzati però ognuno ha il suo la sua paturnia e ognuno ha un suo modo per metterla a tacere Franky con l'alcol Jojo con le paranoie sue del trovare il mondo la situazione perfetta il fatto il Big Alfredo perché vuole successo è così via nel senso con la fama e col controllo e invece Ramiro che queste cose non ce la si butta ma infatti a me è piaciuta un sacco la contrapposizione proprio tra Marino Ramiro e Giorgiono che è rappresentata benissimo in questa in questa doppia pagina in cui vengono inquadrate le caratteristiche il modo di pensare dei due che sono in netta contrapposizione da una parte una pianificatrice dall'altra uno che che si butta altrimenti rimani fermo sostanzialmente lui dice se non fai niente non succederà mai niente sì sono proprio anche perché poi l'idea è che mi piaceva lo dicono anche i personaggi all'inizio a me piace proprio mettere la pistola di Chekhov quando citano La La Land in cui dicono che il vero problema della coppia è la coppia stessa Ramiro e Giorgio hanno un grosso problema di comunicazione cioè banalmente dovrebbero solo parlarsi solo che loro non parlano tra di loro e questo è l'assurdo loro non parlano mai quando parlano e quindi in quel capitolo lì mi piaceva anche far vedere come sembra sembra che stiano facendo un discorso uno con l'altro invece non so se pensate il giochino a ogni pagina l'altra persona sembra che continui il discorso dell'altro in modo sembra un unico discorso come per dire cioè nel senso smettete di parlare separatamente perché vi state allontanando invece di essere due io dovrebbero essere un noi sostanzialmente sì 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 quindi sono contento che questa cosa qui ti sia arrivata comunque sì sì è piaciuto un sacco anche perché sostanzialmente un altro protagonista del libro sempre a mio avviso è anche l'amore che è una sfumatura perlomeno non è l'amore come lo intendiamo noi comunque la sequenza della festa a casa di Big Alfredo è meravigliosa quella con per esempio lì per esempio quando c'è Giorgio Gigante sullo sfondo io per esempio ho le citazioni del cavolo che metto sullo sfondo c'è lo scontro di Sekiro il primo scontro di Sekiro perché perché banalmente quella discussione lì l'uno la può vincere cioè è inutile come te la metti la metti quella discussione lì l'hai persa e quindi per simbolizzare questa roba ho messo il fondale di Sekiro dello scontro che non puoi vincere qualcuno lo coglierà non credo però chi se ne frega c'è nel senso è perché mi diverto con queste cavolate qui ecco una cosa stupida passami il termine quanto quanto è importante la citazione nel senso te la vendo così è più importante mettere una citazione che la gente può cogliere o mettere una citazione che tu sai che ha un tuo senso logico ma che magari la gente non può cogliere una citazione può essere colta non colta non me ne frega niente non è quello l'importante l'importante è che sia marginale non sia il contenuto io ho visto gente che cita scene tipo 5-6 tavole e ti viene da dire ma quello non è citare quello è proprio fare la scena la citazione rimane sullo sfondo non è il contenuto in Ramiro se non colli neanche una citazione non ti rovina assolutamente la lettura anche perché le poche cose che non conosce lui le dice tipo c'è la scena in cui appare Giorgio come la Madonna dei nerd lui ti dice che sono quei personaggi lì ma il resto non c'è assolutamente bisogno di nessuno che ti dica nulla poi se la cogli è una stessina d'occhio a fai parte del club ma se non la cogli non è non è quello il punto il problema è quando la citazione diventa il contenuto e quindi se non la cogli non esci fuori salta la sospensione dell'incredulità perché capisci che questo film qui sta parlando a qualcuno che non sei tu non so se io faccio sempre supercazzo no 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 ci sa ci sa scusa perché personalmente ho visto tanto soprattutto nell'ultimo periodo giocare tanto di citazioni tante opere solo che alcune volte io per esempio alcune non le coglievo e alcune volte l'opera non mi piaceva quindi ero curioso di capire un attimo se anche tu giocavi o hai avuto anche tu qualche volta questa sensazione ma anche con underdogs underdogs è un po' meno però anche lì è pieno di citazioni è una roba perché proprio banalmente a me piace giocare ma è una cosa mia cioè quella faccenda dello scontro quando dicevo di Giorgio sullo sfondo c'è questa roba qui che per me simboleggia chi lo legge dice che bello sfondo punto non è quella la questione sono io che lo scelgo perché mi piace fare questo sudoku mentre se c'era Iacovitti che è questa eccitazione man of the moon bravo esatto c'era Iacovitti per esempio che lui ogni volta che faceva ai Ghirigori perché c'era l'olorbacqui io mentre penso alle storie inserisco queste robe all'interno delle ritornando alla festa da di Big Alfredo mi è piaciuto un sacco anche a un certo punto il cambio di prospettiva è il vedere il punto di vista di Frankie ah sì lì ho preso proprio dai videogiochi quello è Doom cioè proprio a me piace l'idea che lui man mano che beveva si iniziava a quando incontro a Bombay soprattutto quando Bombay grandissimo grandissimo cantante Bombay grande cantante indie grande Bombay no beh mi feceva l'idea perché c'era un gruppo che prendeva in giro Calcutta che si chiamava Cambogia quindi i paesi erano più o meno quelli dovevo cercarmene no ho cercato di cambiare sempre i nomi a tutti anche Cafcania che mi ha dato il premesso ha chiamato tipo Plutonia ma perché banalmente lì in Ramiro tutto è sbagliato a meno così nessuno mi rompe le scatole anche dei giornalisti che diventano dei commercialisti che comunque è cioè l'importante perché banalmente anche se non cogli non è quella la battuta era anche per quello cioè banalmente tu senti dei commercialisti sembra un nome buffo di una band però non è quello il fulcro della questione è che c'è un tizio vestito da cantante indie che banalmente è così che si vestono quindi spero che sia molto cioè che sia invitante cioè dire venite pure sentitevi a casa vostra chiunque anche se non è un buon entry level questo è un po' ma a questo punto Fred scusami visto che comunque la rappresentazione è così importante dai indicazioni precise nella sceneggiatura su come devono essere in realtà la regia io faccio l'impostazione della tavola questa è una roba che anche in underdogs l'impostazione della tavola è mia cioè faccio proprio i quadratini in word in cui imposto la tavola e a volte per far capire cosa ho in testa allo lo sceneggiatore anche perché credo che la regia faccia parte della narrazione cioè in underdogs si prende dal fumetto europeo dal comics americano e dal fumetto giapponese senza soluzioni di continuità quindi è omogeneo il combusto cioè l'unione di queste regie in Ramiro è più teletroco l'accetta perché in Ramiro c'è il capitolo dove c'è Ramiro che è un po' incoglionito il capitolo poi degli altri personaggi che vede un po' come sono andate veramente le cose e quindi essendo questa cosa una cosa importante io la descrivo e quindi banalmente rispetto al di là del white noise della birreria invece quando influisce il storytelling o più generalmente l'autoscrittura ah ok questo è molto importante adesso poi rispondo a questo così chiudo questa già io poi mi perdo apro 15 parentesi poi mi perdo stavo dicendo e quindi la regia per me è importantissima ed ho un sacco di reference tipo io ho giga e giga di disegni di cose tipo il muro quello quell'altro perché ovviamente cerco di dare al disegnatore più cioè di dargli più facilità nel lavorare tipo Luca non è messo c'è una volta a Milano la metropolitana che tu vedi è quella che c'è sia fuori che dentro cioè quel modello lì si chiama modello Leonardo cioè io voglio proprio quella metro là che se tu la vedevi fuori che la vedevi è dentro non aveva questi dili gialli a cacchio ti accorgevi che non era la metro giusta quella cioè io ci tengo al al far sentire veri i posti cioè sembra maniacalità questa cosa qui magari lo è però così senti più vivo i luoghi di di Ramiro tu ci sono luoghi che vedi un paio di tavole ma sono tutti veri c'è l'esco brillo la bireria la vineria dove va Frenchi che esiste davvero in via Pacini in una tavola ti sembra vivissima appunto perché quella è viva è proprio quella la vineria e penso che sia importante questo per dare vita ai luoghi poi i personaggi possono essere scritti bene oppure no ma se si dicono che le persone sono cose più importanti ma i luoghi secondo me sono anche quelli che siano credibili almeno ma quindi hai indicazioni anche per quanto riguarda la colorazione la scelta dei colori diciamo dell'atmosfera tipo quale tramonto su quello no diciamo che il disegnatore è abbastanza sensibile sulla palette da scegliere di solito quando scelgo comunque un disegnatore perché so che ci sta bene il suo gusto su quella storia io lavoro con 3-4 come Tim Burton ormai mi trovo bene con i 3-4 tipo Jenny Ferrari Luca Albanese Francesca dell'uomo d'arme sono loro tre con cui faccio la maggior parte dei lavori perché banalmente rendono il mio range di storie quindi è anche poi un connubio perché poi uno si deve trovare bene col tipo di scrittura dell'altra persona perché secondo uno da tanto rompe il cacchio sulla regia puoi ritrovare anche la stessa visione deve esserci comunque non dico la stessa visione ma un gusto simile Francesco quanto ci hai messo a costruirti questo team creativo con il quale hai creato questo clima armonioso lo so i primi con cui ho lavorato mi sono trovato bene cioè cioè nel senso è che mi succederebbe tipo è come quando un tipo di fidanzi perché mi devo trovare un'altra che devo riconoscere la famiglia ecc mi trovo bene con questa qua adesso so come gestire cioè nel senso sai quando tipo quando il tuo partner conosce i pregi difetti e sai come muoverti per evitare guerre e creare l'armonia ecco una volta che impari quel coso perché rimpararlo verso un'altra persona io penso che nel lavoro sia così quando trovi tre persone affidabili con cui trovi bene poi non subito tipo alcuni mi hanno abbandonato a metà progetti cioè quelli che mi sono rimasti sono loro e penso ci sarà un motivo come come dice Frenchi alla fine è culo sostanzialmente eh sì rimettiamo il commento di poco fa la musica la musica influisce tanto tant'è che di Ramiro e di Underdog ci sono le compilation su Spotify si deve cercare perché mi hacker mi hacker l'umore mi hacker l'umore mi hacker per scrivere quindi per entrare nell'ottica di quelle storie la cioè di Ramiro ci sono del 2019 la compilation di Ramiro adesso vediamo se la becco no questa me la devo segnare allora se c'è che Ramiro la vita da luce altro c'è la compilation adesso 22 brani del 2017 ragazzi il 2017 mamma mia ragazzi qua c'è la pre storia c'è un'ora e 31 di di compilation e poi ho trovato una tua intervista in Spotify ma non trovo allora aspetta adesso ve la ve la sparo io io o zio aspetta come i giovani condividi copia link alla playlist metto nei commenti così così ok vai vai connetto il mio youtube è andato sono io non sono io certo che sono io sei sicuro no si riferisce un errore faccio così allora state su youtube aspetta vi cerco su youtube un attimo tutto ciò è bellissimo che devi fare ma no ma io ci lavoro tantissimo con la musica è importante hackerarsi la testa per ecco qua avevo messo nel nel link cioè 2000 hai detto 17 si si vedi le canzoni inserite ci sono 2017 poi 2021 quando tipo sai ho voluto un attimo dargli una svecchiata poi ho messo 23 perché si vede che c'è uscita una canzone nuova se l'ha tolta l'ho rimessa beh non c'è adesso non riesco a trovarlo ma se lo trovo no no ho messo sulla chat di youtube se tu vuoi una chat di youtube puoi notare adesso lo vado a recuperare in secondo su e poi c'erano 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 gli underdogs ma sì ma adesso poi farò uscire voglio far uscire un qr code magari non è male l'idea se fai il qr code sì sì l'uno se l'ascolta tanto a me che me ne frega tanto io do il qr code non mica le sto accusando io le musiche quindi non pago niente io se mi ho paura che qualcuno mi faccia una multa no non ti fanno multa su questo infatti infatti perché io sono furbo nessuno mi può multare io guardo le iene adesso gli sono tutti i trucchi la trasmissione che personalmente odio e beh ma peggio anche chi le fa le iene si odiano tra di loro cioè perché tipo come le 7 appena ne esci fuori ti fanno il servizio contro è così beh di solito le 7 non ne esci fuori senti Francesco io nel chat di youtube non lo vedo come l'ho scritto nel chat di youtube aspetta mandamela su whatsapp poi la condivido io vabbè su whatsapp insomma avete censurato ho paura è probabile avremmo portato degli argomenti scomodi probabilmente avremmo guardato i modini dell'ikea allora aspetta poteri forti che forteggiano sì sicuramente ho detto che può diventare presidente del consiglio sicuramente qualcuno si è messo di traverso è stato un attacco di poteri forti ho fatto arrabbiare le persone sbagliate mi è arrivato il link dopo ve lo condivido tornando a noi ti avevo anche detto in privato c'è una domanda che ti farò in diretta vada vada ho notato allora underdogs è stata pure una piacevolissima scoperta la storia è avvincente e soprattutto io aspetto il volume 2 quindi spero che che sia in cottura sì 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 adesso avrà annunciato penso per Luca vedremo quando annunceranno vedremo quando annunceranno speriamo che l'annuncino breve però non ti preoccupare perfetto è la prima notizia ce la siamo portata a casa no ho visto a un certo punto anche in Ramiro non voglio dire in che punto della storia per evitare lo spoiler a chi non l'ha letto personaggi che vengono animalizzati ok underdogs è tutto un racconto di animali antropomorfi in Ramiro anche lì a un certo punto vediamo personaggi umani che cambiano sembianze in animali quindi volevo chiederti se proprio è una tua passione questa di rappresentare in realtà in realtà gli animali se tu noti nei titoli dei miei fumetti c'è sempre un animale in mezzo la riferola serpe la mia opera prima poi c'è underdogs e poi Ramiro una vita da lucertola lo faccio perché non ho mai amato Dario Argento e odio i bulli perché lui aveva bullizzato c'è questa storia qua adesso una cacchiata però devi dirti come mi piace mettere inside joke all'interno delle opere Lucio Fulci lui ha fatto il film non si servizio un paperino e ricevette la chiamata di Dario Argento che gli fa oh ma come ti permetti che gli animali negli oro ci metto solo io ho fatto ma come io ho fatto piumi di cristallo e ho fatto il gatto e gode scusami ma che cazzo mi frega a me e lei ha chiuso il telefono ed è lì non ci sono parlati no allora ma è questo qui che chiama dicendo gli animali ci metto io nei titoli ma come ti permetti e ho detto ma visto che a me questa cosa qui non mi piace sono sempre stato un grande fan dei Fulci cosa ho deciso di fare metto gli animali nei titoli ora che il fatto come tutto nasce a caso com'è che è nato Ramiro è nato perché avevo fatto un progetto a scuola di fumetto ma il professore disse questo è impubblicabile fanno uno più leggero stessa cosa a underdogs cioè dovevo fare c'era il professore che ci faceva fare delle opere con dettimi strasfruttati e dovevo trovare un modo per rendere gli originali tipo c'era gli zombie e come rende originale una storia con gli zombie che è straabusato gli animali antropomorfi come lo rende originale io ho pensato faccio cadere un essere umano infatti a scuola figurati la storia embrionale di underdogs erano due paperi omosessuali in una paperopoli anni 90 che non potevano adottare niente perché non potevano adottare i figli essendo omosessuali gli cade un essere umano fatto ci adottiamo questo era un po' questo per dirti come poi è evoluta man mano la storia da adesso tra l'altro l'avrei letta anche così con i paperi omosessuali ecco l'arrivo nel mondo di underdogs di quella che poi sarà una delle protagoniste insomma lo metto lì per ingolosire i futuri lettori di questa storia sì ma underdogs tipo ha passato tante di quelle fasi perché lo scrissi prima di Ramiro poi l'ho ripeso dopo poi l'ho stato ripensato cioè per esempio il cane è stato scelto per ultimo che è il mio cane cioè adesso che adesso non c'è più Diamond Dog però la questione è che underdogs è esattamente come doveva essere cioè è un po' come quando tu senti che Ghostbuster tipo è meraviglioso con Bill Murray ma sapevi che era stato pensato in un altro modo con Belushi eccetera poi le sfortune su sfortune poco budget perché doveva essere una roba futuristica cioè tutte quelle sfortune lì l'hanno reso in quella maniera quello che è adesso Ghostbuster cioè Ghostbuster ci doveva essere anche anche di Murphy se non ricordo male no lui è rifiutato non abbiamo scelto c'era di Murphy quindi la questione è questa è come anche Breaking Bad c'è John doveva starci John Cusack quindi lo fa mille volte Breaking Bad lo fa mille volte Ghostbuster non esce bello come quella volta lì perché le sfortune anche in Breaking Bad molti dei cattivi sono usciti dopo perché il cattivo principale ha cambiato serie tipo Tuco di Breaking Bad è finita a fare un'altra serie doveva essere lui il cattivo principale l'hanno fatto fare l'hanno fatto uscire di scena presto perché c'aveva altri cacchi e secondo me ha sbagliato serio per buttarsi poi ognuno ha le sue scelte ma ti faccio una domanda ti faccio una domanda un po' più generica adesso stiamo parlando di percorso creativo devo formulare un attimo perché non è semplicissimo il pensiero quando tu fai un'opera e questa opera è condizionata nel tempo da quello che abbiamo definito adesso come sfiga quindi viene riplasmata sotto quel punto di vista tu come pensieri la senti ancora totalmente tua come quando l'hai pensata oppure dici cazzo mi sarebbe piaciuto però farla comunque in quell'altro modo no perché io sono alla Bruno Lauzzi adesso mi ricordo penso che sia stato lui Bruno Lauzzi a dirlo che le censure ti permettono di scatenare più la fantasia cioè io suono per i limiti cioè la questione è che se tu vuoi dire una cosa perché comunque il fumetto il cinema quello che è uno strumento di comunicazione serve per comunicare dire una cosa e tu la vuoi raccontare la vuoi infiocchettare con un pacco ma ti dicono che il pacco già non lo puoi usare allora devi pensare a un altro tipo di pacco tu comunque quello che hai è sempre il nucleo della storia che vuoi raccontare quello che vuoi dire tutto quello che viene intorno le limitazioni o le sfortune sono soltanto modi in cui tu devi cercare di riconfezionarlo però resta sempre quello quindi anzi ti dirò di più quando hai dei limiti a volte ti permettono di trovare soluzioni più intelligenti o anche più interessanti per qualcosa che magari stavi facendo in modo banale perché malamente potevi cioè a volte i limiti ti permettono anche di avere delle idee o tipo pensiamo a Hitchcock che aveva i limiti tecnici e si è inventato il piano sequenza anche se non si poteva fare come? mettendosi negli angolini bui bloccando la pellicola perché durava massimo otto minuti quando facevano le riprese all'epoca per cambiarla e far sembrare che era un unico piano sequenza piano sequenza quindi io penso che più o meno sia così non so se io dico sempre il mio solito finale spero che abbia fatto supercazzo diciamo che i problemi fanno capire che siamo sulla buona strada sì sì più che altro ti permettono anche di vedere se la tua idea è tanto buona perché se un problema dallo blocca vuol dire che non era tutta questa grande emergenza comunicativa ti permette anche di capire come togliere le cose Ramiro come avevo pensato io doveva essere grosso il doppio quando mi sono accorto che dovevo mettere su tavola quelle robe che avevo pensato ci sono molte scene che ho dovuto tagliare nella mia testa perché ho pensato di avere molto più spazio infatti è tutta una roba di taglio per esempio in Underdogs il volume 2 sarà veramente un Tetris perché succedono mille cose e lì è stato divertente cercare di centellinare e inserirle in modo che sia un perfetto mosaico ma è una roba che a me diverte quindi Brent tornando su Ramiro a un certo punto Ramiro si rompe o diventa solo più consapevole per me è la consapevolezza perché non è che cambia si accorge che vede meglio cioè più che altro la questione è che è come se fosse un giovane Holden solo che oggi i giovani Holden non hanno 15 anni ne hanno 30 quindi è una storia di formazione e com'è che ti toglie qual è il senso? il senso è che non capisci bene dove devi andare ma capisci più o meno non dico chi sei ma quello che non ti piace è una grossa consapevolezza perché il non capire quello che non ti piace neanche è di dare una grossissima confusione già il comprendere quello che non vuoi fare è già una cosa enorme tutti dicono cosa vuoi fare da grande infatti Nando non voglio fare questo questo e quest'altro che già secondo me partendo da lì già ti togli una bella fetta io parto sempre tipo il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto io penso che mi ha fottuto la bottiglia è un po' quello e quindi perché comunque c'è questi finali un po' così c'è un certo punto in cui c'è la la rottura di Ramiro quando c'è proprio il punto cruciale che cade il velo sostanzialmente non è che c'è la rottura è che lui si scontra con la realtà quindi o ci fai pace o ci ci sta incazzato cioè due sono le soluzioni anche puoi farci tanto quando hai un mondo nella testa e questo mondo si scontra con la realtà ci sbatti la faccia quindi o ti arrabbi col muro e inizi a tenere il broncio o dici vabbè ecco sì qualcosa farò cioè sono due le soluzioni che ti trovi davanti non è che ci sono tante scelte quando sbatti la faccia quando sbatti la faccia però ti fai male quello è un po' il senso infatti Francesco tant'è vero che ti volevo chiedere visto che si parlava di difficoltà cioè riflettevo anche sul diciamo il tempo che ci hai messo per arrivare a pubblicare questa storia e mi domando quanto sia difficile in Italia arrivare a pubblicare quando diciamo non sei una superstar del fumetto e quanto sia difficile poi viverci no? di queste che cosa ne pensi? allora viverci ci vivono pochissimi cioè sono quel come si chiama quel dossier mi viene i servizi in cui articoli in cui ti escono fuori le statistiche che dicono che l'80% dei libri vende una copia cioè quando ne escono tanti e quanto sia frazionato il mercato quindi diciamo che di fumetto se non fai altro ci cambi poco a meno che tu non sia uno dei grandi maestri che sono quelli che hanno un nome hanno un blasone che fanno il libro a prescindere vendono e quindi possono veramente grandi eh eh grandi anticipi il fumettista deve imparare a uscire fuori cioè deve vendere anche in Francia e in America che sono mercati che banalmente pagano di più anche se con numeri anche l'Italia sta messa bene quindi diciamo che come diceva Gipi eh fare fumettista è un privilegio eh anche se a tutti noi piace leggere fumetti è un privilegio quindi se ce la fai a viverci eh hai una libertà incredibile che ti sei guadagnato però per arrivare a guadagnarti quella quella roba lì devi non è facile non è facile e quindi non puoi dare per scontato che tu ci debba riuscire perché se vuoi uno stipendio fisso ci sono un sacco di lavori che te lo permettono di avere il fumettista lo sai che ti scontri con questo mondo e potresti tornare con le ossa rotte a meno che tu non hai un piano B da associare al fumettista tipo io di lavoro adesso faccio l'ingegnere di giorno quindi vediamo che succederà in futuro però se non hai un secondo lavoro oppure non hai un piano B oppure banalmente non sei un grandissimo di quelli che ha è arrivato lui esce il suo la sua raccolta di schizzi mentre aspettava la fila dal dottore mille copie vendute cioè è un po' quello capito se non sei quelle persone lì sai che ti dovrai fare il culo beh la copia dell'artbook di Frecht mentre aspetta dal dottore sarebbe interessante sì 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 adesso aspetto di chi si dimmi poco bene che poi inizia a farlo perché poi così io comincerei con gli schizzi al telefono mentre parli al telefono quelli funzionano sempre beh devo provare cioè io mi metto a disegnare cose brutte solo che sono incapace quindi appunto sono brutto adesso devo cercare di aspettare che adesso il brutto vada via di moda torni il bello e poi ritorna il brutto quindi mi tocca aspettare due cicli di mode una tesina di anni e quindi aspettiamo senti Francesco tu sei sei un informatico non sei laureato in ingegneria informatica giusto? non ho laureato in informatica posso fare esami di stato per l'ingegnere informatico però quindi mi permette di essere no la domanda era che opinione ti sei fatto delle intelligenze artificiali visto che è un argomento che praticamente io sono laureato in intelligenza artificiale in realtà sono proprio specializzato in intelligenza artificiale con tesi con il buon Leonardo Vanneschi luminare che si può cercare e anzi in trinandale non so chi si guarda il tabozzo simuleto come giocava il tabozzo simuleto certo il relatore della mia tesi Andrea Bonobi è creatore di tabozzo simuleto stringigli la mano perché li ho mangiato ora lì sopra grande vedo che comunque è solo del nord questo gioco vedo che comunque al sud non ha mai avuto non ha mai attecchito anche perché dovete giocarlo dovete giocarlo ragazzi è un gioco scemissimo ma troppo divertente no comunque il intelligenza artificiale è uno strumento per ora hanno prima fatto uscire le bestie e poi hanno messo i recinti e quindi devono recintarlo in questo momento sta rubando e quando dicono eh vabbè ma anche la mente umana fa così sì però io pago la formazione che cazzo vuol dire quindi sicuramente è uno strumento che aiuterà tanto le persone perché banalmente se tu puoi farlo imparare sui disegni puoi fargli fare delle robe che a cacchio magari di fondale che non ti va oppure banalmente chi non vuole più disegnare può vendere i suoi disegni e guadagnarci sopra i diritti se imparano sopra le intelligenze artificiali penso che una volta che verrà regolamentato e quindi non andrà più a intaccare non verrà utilizzato in modo coatto che piglia ovunque e ti fa queste robe qui quindi vedremo i limiti che può fare la macchina perché la tecnologia è limitata se non ha un dataset enorme ecco lì secondo me avremo un ottimo strumento per appiattire un po' i maestrieranti un po' come fu quando arrivò Instagram per i fotografi che tutti hanno imparato a fare più o meno una roba però come diceva l'occasione importante c'è il fotografo certo perché adesso il timore no scusa ti interrompo Francesco perché adesso il timore insomma della categoria dei fumettisti soprattutto i disegnatori è proprio quello di essere colpiti diciamo nel cuore del proprio lavoro attraverso l'Unione Europea finalmente ha firmato e finalmente sta iniziando a regolamentare perché è così un po' come quando uscì tipo Napster oppure Mixed by Henry che si copriano tutte le canzoni poi ha iniziato a fare la stretta glielo beccati non si poteva fare più cioè una volta non c'era la legge adesso ci sta beh l'hai detto tu prima però se legano i cani con le salsicce poi succede questo si va sempre a correre dopo ai ripari sì perché praticamente noi siamo sempre stati indietro rispetto alla tecnologia e quello è il problema dell'umanità ha sempre prima fatto la tecnologia e poi ha capito quali erano i limiti da chiudere tipo con i social network che abbiamo visto quando prima tutti i nostri dati in modo coatto venivano presi e venduti a terzi piano piano quello però secondo me deriva dal fatto che qualcuno deve pagare dico la stupidata Gmail è gratis ma non è gratis perché in realtà Google ti vende i dati perché comunque si deve mantenere quindi il gratis non esiste beh adesso non mi ricordo cosa ha detto come dice il processo però in qualche maniera avrà detto ok ditelo pure però oppure trovato un altro modo per fare i soldi credo che sia quello però in linea generale però il principio credo che sia si possa ricondurre a quello lì sì ma tu l'hai mai usato l'intesa artificiale nel tuo mestiere come fumettista oppure ancora no? come fumettista no perché banalmente per ora non è molto utile cioè anche tipo schiede già tipi di mi dame degli argomenti per non mi sembra che tiri fuori chissà che cosa anche perché non è facile cioè disegnare anche tipo i disegni che tirano fuori l'intesa artificiale anche se rubano tanto sono pieni di difetti no ma i pieni di difetti hanno comunque uno stile molto riconoscibile da intelligenza artificiale cioè già lì che copie in modo coatto già si vede che c'ha dei limiti che l'occhio se ne accorge perché adesso che non te ne accorgi quando vedi una singola immagine ma per esempio i fumetti fatti con le AI io li ho visti sono roba che sembra cioè ha più espressività un fotoromanzo quindi sono piatti sì io penso che questo è in questa maniera in cui non hanno limiti ma adesso che metteranno i limiti e dovranno comprare il dataset che deve imparare vedremo che chi per loro avrà sia il pagamento le persone giuste a cui hanno preso le informazioni sia vedere come diventano bravi prendendo soltanto da pochi gruppi cioè beh io sono sono convinto che quando stringeremo i magli come abbiamo sempre fatto le cose si sistemeranno non dico si autoregola perché in questo momento diciamo la comunità di fumettisti rispinge completamente l'idea no? l'avrei visto anche sui social network sì ma perché in questo momento è fuori legge in questo momento stanno utilizzando le indagini artificiali in modo sbagliato e quelli che si definiscono artisti hanno utilizzato uno strumento che non è ancora regolamentato quindi non lo so però se non sei regolamentato non sei fuori legge sì lo so lo sai che in questo momento logicamente come dico io conoscendo come dovrebbe essere eticamente la cosa io lo vedo che c'è una cosa che non va la legge non c'è ancora arrivata ma non c'è bisogno della legge per vedere che so se una persona cresce l'altra c'è qualcosa che non va se non c'è ancora legge ci vorrebbe una legge quello che sto vedendo io conoscendo come funziona le indagini artificiali sapendo che stanno imparando da disegni che a cui non è stato dato nessun non è stato pagato nessun autore so che secondo me quello lì è un illecito e come adesso l'Unione Europea sta regolamentando quello che per lì è un illecito ma si vedeva anche prima secondo me e quindi hanno ragione incacchiarsi perché finché non si incacchiano vedi che l'Unione Europea non si sbrigava cioè adesso quando i boicottaggi ci hanno voluto affinché l'Unione Europea iniziasse a dire forse ci sta un problema come le fiere che non si accorgono di come è importante trasmettere certi messaggi come noi facciamo la fiera di fumetto e quindi paghiamo i fumettisti alla prima grande c'è la prima fiera che ha fatto la locandina di inzente artificiale si è beccata un marasma e lì si è accorta che c'è un problema però la questione è che non è tanto chi si incacchia e che la gente può incacchiarsi affinché si dica oh c'è un problema ne vogliamo parlare e quello è il problema e quando la gente fa l'ognorri è uno che ha cosetto ad arrabbiarsi ma infatti Francesco spesso e volentieri passa il messaggio da parte di chi difende le intelligenze artificiali che in realtà chi si lamenta è un boomer che fa difficoltà ad accettare i cambiamenti della tecnologia e quindi dovrebbe stare solo zitto invece c'è una comunità di disegnatori e anche di disegnatori c'è tutta una comunità di autori di fumetto che attualmente rifiuta l'idea perché sa che comunque in ogni caso diciamo va a togliere il lavoro perché la tecnologia ha dei lati oscuri come dice anche Black Mirror ha dei side effects che vanno regolamentati e questa roba qui non si può fare perché altrimenti poi tipo uova rotte non è che si possono rimettere nel tuorlo e quindi la gente è normale che anche se non è capisci che è uno strumento non è che tipo non si può neanche più fare di intelligenza artificiale no ci sono i problemi grossi prima di parlare di intelligenza artificiale nell'arte regolamentiamo lo strumento per vedere veramente quello che può fare prima che ci troviamo troppo in là e quindi la gente si arrabbia non perché non si può parlare ma perché prima di parlarne regolamentiamola perché stiamo parlando cioè stiamo parlando di qualcosa che non dovrebbe essere così cioè prima che sia troppo tardi siamo costretti a urlare altrimenti non veniamo ascoltati questo ma credi che questa cosa credi che questa cosa sia anche un po' frutto dell'ignoranza di chi sta da entrambe le parti nel senso dell'usatore dell'usatore e dell'odiatore che non sono la stessa persona no la questione è che molto spesso si tende a minimizzare e questo atteggiamento qui crea tutta quella 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 rabbia perché spesso vengono spiegate all'interno di quando succedono queste cose qua guarda che questa roba qui però potevi e di solito c'è sempre le fasi sono sempre tre cioè di minimizzare no vabbè ma dai ma fate una risata e vabbè ma dai poi a capirsi che la cosa è troppa fare marcia indietro e poi far finta che in realtà noi siamo sempre stati pro cioè la questione è che non è questione di ignoranza la questione è che si minimizzano le problematiche cioè quando qualcuno è ignorante di solito una persona che è ignorante ma è intelligente dice oh adesso sono ignorante su questa cosa imparo se invece tipo tu minimizzi resti ignorante perché vedi ma sì ma che me ne frega a me è quello il problema non è tanto l'ignoranza in sé per sé perché l'ignoranza è soltanto uno stato è la forma mentis che ti frega io penso che sia più quella forma mentis di quello che non conosco minimizzo sì vabbè chi se ne frega tanto poi si placheranno poi quando ti accorgi che non si plagiano è lì con i ripari però che cosa fai capire fai capire che la gente o si arrabbia o si arrabbia perché altrimenti tu non è che li consigli ah mi scusi adesso proviamo a vedere non ho mai visto un'apertura di dialogo finché non è arrivata la Sheastorm è un po' quello lì io credo sia ma corsi e ricorsi eh sì non ti vedo convinto io io sì sì no 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 la dottore RKC ah ok no 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 io sono no no sono convinto perché sto seguendo il discorso siccome io sinceramente lo utilizzo abbastanza per una parte del mio mestiere ma mi rendo conto che potrei fare la stessa cosa mettendoci solo più tempo quindi io non vado a minimizzare sul rubato lavoro ma vado un po' a pensare solo al risparmio di tempo però effettivamente anche solo pensare al risparmio di tempo diventa un minimizzare il problema quindi stavo ragionando su quello ma anche la questione tipo minimizzare minimizzare tu non è che minimizzi però la questione è tu è una roba che automatizzi un tuo processo e quindi sei tu che risparmi il lavoro o manualmente risparmi il lavoro perché non fai lavorare un altro tizio e quindi capito ti stai rubando i suoi disegni oppure oppure tu utilizzi una macchina che prende i disegni però tutti i disegni sono stati pagati quindi non stai rubando nessuno e quindi cioè se tu ci rifletti le soluzioni ci sono e quando minimizzi dicendo sì vabbè è quello che la gente fa arrabbiare perché nella vita le tecnologie arrivano e bisogna conviverci e molto spesso sono anche utili ma finché non si capiscono come possono essere dannose e quella dovrebbe essere la prima cosa però è un po' per fare un po' di etrologia su perché ci sono queste cheerstorm non è che sono i forconi ecco anche perché sono artisti prima di boccare un forcone ci pensano credo però sei stato bravo a dare la definizione di ignorante e secondo me molti dovrebbero cogliere l'ho trovato veramente saggia è più la forma mentis che l'ignoranza in sé per sé perché spesso ci si offende quando ti viene detto che sei ignorante quando in realtà non è un'offesa è semplicemente non conoscere l'argomento come diceva e spesso si confonde lo status cioè lo stato in cui ti trovi non lo stato in cui ti trovi con la forma mentis perché l'ignoranza può essere uno stato momentaneo tu sei ignorante su un argomento e ti formi ma se la tua forma mentis è la roba diversa allora sarai perennemente ignorante ma quello è uno stato indotto dalla tua forma mentis insomma mi faccio mi si fa solo un momento fino adesso per tornando invece all'abito del fumetto scritto nel tuo caso insomma a cosa stai stai lavorando a qualcosa in questo momento a parte Underdogs che abbiamo già detto essere ormai di imminente uscita allora sto lavorando dei proposal quindi sicuramente a opere nuove lavorando anche a una nuova serie che anche questa qui la voglio fare in coppia con un altro autore e a due personaggi italiani di cui non posso parlare quindi ho tanta roba ma in questo momento sono tutti in costruzione quindi spero che potrebbero parlare a breve anche perché Underdogs sapete no che è una serie quindi il due il tre aspettatevi adesso a breve verrà annunciato il due il tre stagione lavorazione quindi carne a fuoco ce n'è e qui e niente adesso non mi posso sbottonare e oibò andate così comunque ci stai lavorando tu e non un'intelligenza artificiale ecco no 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 anche perché non mi posso permettere questi abbonamenti ma costa l'intelligenza artificiale ma non so neanche credo vabbè non so adesso quanto io mi ricordo accetto GPT costa 20 euro al mese se vuoi la versione 20 euro al mese perché costa più di Netflix abbi pazienza costa troppo più di Netflix con 20 euro al mese fai Netflix e Amazon Prime e ti mi rimane anche il resto esatto anche se per ora è quella che preferisco devo dire trovo degli ottimi film d'epoca io sono poi molto vintage a parte la tua passione per il fumetto a proposito vogliamo parlare anche delle altre degli altri volti del nostro Frecht dove possiamo trovare incontrarti allora adesso c'è sta tornando in tour quindi seguite il profilo di Gianluca Iacono Vedete è morto l'ucciso io opera che ho scritto insieme a Gianluca che è un po' un Christmas Carol con i personaggi di Gianluca e della sua voce quindi vedrete una roba che a teatro non si vede mai cioè è un monologo ma in realtà è lui che parla con i suoi personaggi quindi non è un monologo però è sempre Gianluca quindi è particolare da vedere a teatro poi sto provando a fare lo stand up comedian quindi se vazzicate nelle parti di Milano è seguito la mia pagina Instagram io sono fregt tutto attaccato potete vedere un po' dove mi esibisco quindi per ora solo no vedremo di di spostarci anche un po' più giù vediamo un attimo su quello sto un po' un attimo impratichendo altrimenti ci sentiamo sulla sul mio podcast su YouTube Spotify consigli non richiesti oppure su Cinefact che è capito spesso come ospite ricorrente oppure di parlare di video di doppiaggio con Maurizio Merluzzo nel format doppiatori reagiscono che mi vede spesso lì anche lì come ospite ricorrente quindi ci si vede lì altrimenti se ci si becca per strada salutatemi altrimenti al Taranto Comics il prossimo 11 e 12 maggio perché ci sarà sia Frecht che Maurizio Merluzzo che Gianluca Iacono li abbiamo infilati tutti insieme per darvi il massimo godimento a questo giro quindi permettetemi ho fatto il un po' di una margetta lo strike esatto ragazzi l'applauso a Luigi ci vuole che farei l'applauso a Luigi grande merci tra l'altro su consiglino richiesti su consiglino ma a proposito di consiglino richiesti io sto apprezzando molto la rubrica che stai portando avanti con il buon Pelati e Fumetti ossia quella del relativa ai ragione però mi riferisco a quella dei fumetti di qualche anni di riconforte esatto perché mi stai facendo tornare alla mente fumetti che o all'epoca mi son perso o se ne è parlato fin troppo poco o addirittura ho acquistato e non ho ancora letto quindi perché succede anche questo nella mia vita ed è una rubrica molto interessante anche perché quei fumetti là io li scopro tutti quanti all'ibraccio io vado all'ibraccio vedo questi tomi enormi di sti fumetti tipo in tonsi e scopro che le case editrici prima di mantarle a macero li danno all'ibraccio quindi io scopro tre anni dopo i fumetti che non hanno venduto tipo adesso adesso mi fanno i cacchi però sappiamo tutti che c'è ci sono delle opere che io do a metà prezzo così ed è un peccato perché si possono scoprire il sogno artistico più grande che ho c'è un'aggiunta Marvel 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 fumetti il cuore di fumetti al cinema mi fanno cagare tutti Marvel poi il sogno artistico più grande che ho fammi disegnare un fumetto da Jason Rubin ah beh beh non è impossibile però ce l'ho a me piacerebbe tanto ho fatto uno da lui vedremo 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 come va speriamo di non essere in fase calante già adesso speriamo che vada beh non so chi di voi ha letto Ramiro se avete tutti e quattro se tutti i quarti vi è piaciuto no moltissimo io no l'ho letto Gianluca Luigi recuperatelo recuperatelo no se no in lista recuperi io mi sono divertito tantissimo a leggerlo quindi ho letto l'anteprima presente sul sito la salda per essere mio conquistato tant'è vero che ho detto a loro non è una bugia che lo voglio recuperare quindi non lo dico soltanto perché sei qui ci vuoi chiamare Nando Comics tutti e quattro no noi tre sicuramente Gianluca Carboni non lo so perché è un po' fuori tu pensi il buon Cannella anziché essere a Taranto in quei giorni a Milano dico bene a Milano come a Milano penso un po' a te cioè lui da Milano viene a Taranto e tu da Taranto vai a Milano ma c'è la comunione di mia nipote non ci posso fare niente quindi ma c'è la comunione che devi fare è giusto così ma ci becchiamo è un però ti vuoi becchare puoi incontrare il Carboni cioè diciamo che culo guarda lo stavo per io sì guarda vado io a fare la comunione vado io a fare la comunione faccio il prego Don Carboni scusate però voglio rientrare nei ranghi parlavamo degli indimenticabili però è interessante sta cosa no perché spesso ci sono delle opere che passano un po' in sordina o perché a volte da un'area di sfiga o da no ma per esempio le opere sono tante non è che puoi parlare di tutte quante quindi è carina però è uscito proprio nel periodo in cui c'era macerie prime di calcare non potevamo non leggere macerie prime o che ne so è uscito il libro X dell'autore tutti parlano di quel libro lì e magari è uscito lo stesso giorno di un altro e se non sono cagati di meno e poi il libro dura due o tre mesi poi sparisce non se ne parla più esatto io spero che era più che venga la tua da lunga perché c'è che in qualche maniera se ti fa di divulgazione dato mio sia in questa maniera faccio capire che i libri cioè non sono solo in quei tre mesi che sono usciti non hanno una scadenza esatto ci sono molti libri bellissimi che non hanno avuto la ristampa tipo anche nei dimenticabili è strano vedere come tre per tre occhi non si possa trovare più in Italia o altre opere tipo io sto aspettando il finale di Sex Criminal quando è che è il quinto numero Sex Criminal è rimasto il quarto numero di Franckshon ah ok si me lo ricordo il quarto numero mancano due numeri che sono in America oppure che ne so mi viene in mente guarda qua sopra Giant Days di BD siamo arrivati al numero 7 vendo un zecco di Eisner e sono 14 numeri lo vogliamo finire no ma sai che mi hai dato uno ma tre per tre occhi non l'avremmo ristampato o è sempre la stessa versione la versione di Tankobon era del 2003 abbiamo parlato nell'ultima puntata si si è indivindicabile nell'ultima puntata abbiamo parlato di tre per tre occhi quindi Umberto qualche episodio fa ha fatto vedere un volume della DC se non sbaglio adesso non mi sto ricordando Wednesday Comics esatto bellissimo tra l'altro non lo conoscevo edito tanti anni fa e non è stato mai più ristampato no ma si trova da Feltrinelli se cercate sul sito Feltrinelli lo potete trovare ragazzi Wednesday Comics ah si ancora lì si 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 ah perché mi sa che tu nella in quella dicevi c'era una copia disponibile e te l'ha servito no c'era una copia a metà prezzo me l'hanno fregata mentre stavamo in live però comunque rimangono ancora ah ok ci sono ancora e durante la live lui si è collegato e gliel'hanno frecciolata durante la live non lo sapevo io ma perché lì non ci diciamo le cose io e pelati poi c'è anche questo format chiamato andiamoci e ci poniamo la domanda e andiamo poi a chiedere risposta tipo abbiamo puntato abbiamo fatto la domanda a Bloodbuster che è un un negozio di di film oggettistica horror a Milano che prende un po' in giro il noto marchio Blockbuster fa strano come tipo nato come preso in giro della candecatena quelli sono falliti loro sono ancora rimasti in piedi e What West of Time la fumetteria e il cinema Beltradi il cinema del sé per capire come fanno a resistere a grandi colossal colossal a grandi competitor come Netflix o Amazon per esempio nella seconda puntata abbiamo parlato di serie lunghe serie brevi cioè di volumi unici cioè storie che si concludono in un volume solo o serie qual è la differenza tra scrivere uno o l'altro abbiamo chiesto a Sio a Bevilacqua eccetera nel terzo episodio abbiamo parlato di calligrafia con il maestro calligrafo nel quarto che c'è la settimana prossima sarà tipo parleremo della review quindi vedremo come come questo vuol dire narrare a fumetti senza però fare fiction ma narrare articoli se il fumetto come medium di narrazione può fare anche altro rispetto a quello che pensavamo e quindi è un format che stiamo cercando un po' di capire come farlo a volte dura 20 minuti a volte dura un'ora come la punta della calligrafia ci muoviamo un pochettino a pancia però spero che esca bello anche perché è poco scriptato cerchiamo di metterci molta pancia tu non so se li hai visti Luigi i video però sì no 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 so ti sossego vi sto seguendo e sono veramente interessanti ecco perché ci tenevo comunque a citarli e a parlarne perché quando posso mi metto in sottofondo soprattutto nei miei spostamenti in auto quindi si imparano sempre cose nuove ragazzi a prescindere ecco tornando al discorso di prima tante cose che non conosco e che ignoravo mi tornano utili anche da un video come come questi insomma l'idea è che ci va di farlo perché se no stiamo a vedere le mode tagliarlo fare massimo 10 minuti l'idea è che noi se facciamo una roba perché ci va di farla può essere bello brutta ma meno autentica comunque ha un qualcosa di suo ecco ti faccio una domanda che so già che adesso partirà lo solito spottò intorno cosa ne pensi del comitato in digitale come fruizione ragazzi è un altro il webtoon cioè quello che si muove in verticale è un altro strumento con le sue regole quelli che traducono quella roba lì in cartaccio ed esce quella strana cosa che non si capisce come è stata tagliata che è orribile dovrebbero smetterlo è un suo è un medium nuovo che bisogna capire un attimo come narrare non più perché il fumetto ha questa cosa qui che tu apri e vedi già entrambe le pagine quindi i colpi di scena devi mettere nella pagina a sinistra se no te lo giochi il colpo di scena invece la pagina a destra devi mettere l'azione che ti fa girare la pagina quindi un cliffhanger un'azione sospesa perché hai bisogno di qualcuno che si muova e sono tutte logiche che ti fanno narrare in una certa maniera affinché tu al lettore inizi a far capire cioè è come un balletto solo che dall'altra parte devi spingere la persona a ballare con te il fumetto digitale e quindi quello reale digitale non prendi fumetto e metti sul computer ma è quello che si scorre quindi è tutta un'altra meccanica io credo che permetterà di sperimentare cose fighissime solo che adesso ancora gli albori si rifà ancora al cugino cartaceo ma penso che sia tutta un'altra roba dovrebbero cambiargli il nome il fumetto digitale sembra un sottogruppo invece è un altro modo di fruire delle immagini facendo proprio un gesto completamente diverso però ti giro ti giro la cosa è vero che come hai descritto tutto hai descritto il webtoon che è proprio un altro tipo di fruizione che ammetto anche a me è un po' ostica come lettura poi ci sono un po' entrato ma visto che si parlava di valorizzare le opere e scoprirle pensi che il digitale possa dare una mano alle vecchie opere a rimanere più più in vista più fruibili a tutti perché come dicevamo prima un'altra che non viene più ristampata quindi diventa difficile da recuperare poi si rischia che vada nel suo tra virgolette oblio invece rimane in un archivione digitale è più facile che possa essere riscoperta domanda abbastanza però di per sé leggere un fumetto in digitale il fumetto inteso come fumetto classico secondo me è comunque andare a castrare l'opera perché non è stato pensato per stare su uno schermo anche il fatto che fai in singola pagina mi smerdi tutte quante le composizioni colorate quando vedi la pagina intera aperta oppure quando l'apri in due la questione è che il formato pure fa il fumetto quindi quando tu fai un certo formato è perché vuoi che l'opera arrivi in una certa maniera quindi il fumetto digitale come lo dici tu in quel senso lì se non c'è altra possibilità va bene ma il device peggiore inteso come strumento su cui tu puoi fruirne credo se poi può servire a dire cacchio è una bellissima opera ristampiamola oppure non perdere dicendo ah cavoli come sarebbe stata figa di stamparla però mi viene in mente che ne so per mezzo all'eternauta cioè che ha anche un formato lungo come era è diverso infatti tu hai toccato un altro argomento sul quale noi ci scagniamo sempre a proposito di formato per quanto riguarda il digitale perché comunque ovviamente ognuno qua ha la sua opinione Gianluca la pensa in maniera diversa però noi portiamo diciamo siamo a favore del cartaceo non solo per questioni di criticismo ma anche per questioni di formati cioè nel senso che proprio l'idea di resettia il formato è quello se non riesci a fare su quel formato è come dire cavoli un film in quattro terzi lo devi mettere su cioè se è un film widescreen c'è un quattro terzi tu lo taglia e ti girano cioè non è così anche perché in alcuni casi anche la scelta della carta è coerente con la storia narrata quindi sostanzialmente è proprio una cosa fisica oppure penso anche a Building Stories che ha diversi formati appunto per hai scelto l'estremo però Building Stories è più un caso umano che un comando non è digitalizzabile Building Stories non è possibile niente digitalizzabile però quello è il caso limite per dire guarda figurati cioè la questione è che il device è il contenuto questa sequenza qui di Ramiro è bellissima tra l'altro complimenti a proposito di regia e di idee fighe questa è meravigliosa si diciamo che l'idea è tipo Luca è fantastico era quella tipo che lui scorreva e vedevi sempre Ramiro in ogni cacchio di cose che scorreva e quindi era un po' in mente mentre guardavo tipo We Three di Quintley e Morrison che c'è la scena del robot coniglio che è salta da una vignetta all'altra cosa che poi ho ripreso in Underdogs dove c'è la scena di Ziggy che schiva tutti i coltelli di Sonny quindi c'è due scene completamente diverse dalla stessa ispirazione adesso non so se la vedi la scena di lotta tra Ziggy e Sonny cioè lei che salta i coltelli e le stesse ispirazioni che ho avuto quando poi ho pensato a quella che lei si quella sopra mi ha fatto la stessa scena ho avuto due ispirazioni diverse fare questa con Ziggy e fare invece poi quella di Telephony con con Ramiro quello per dire che ispirarsi vedere le cose non vuol dire copiare è fare tuo qualcosa che non era tuo l'arte è questo cioè l'arte è prendere qualcosa e dire adesso come adesso me la modello cioè è un po' come giocare con i Lego ma con dei Lego cioè i pezzi non so come spiegarlo è come se fa ecco come giocare con il dido la cera è quella ma la forma gliela hai detto bello emozionante grazie per aver fatto un bel dido scopriamo il dido aggiungerei che che c'è un altro punto questo è un po' spoiler quindi allerta spoiler che mi ha veramente colpito perché pensavo che quando Ramiro e Frenchi si voltano verso e sembrano che stanno parlando con con noi il lettore e poi scopri che in quel momento abbia dato proprio anche perché l'ultima l'ultima vignetta della della pagina non so se poi hai notato che erano i vicini di casa in quel caso lì eh sì 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 assolutamente però in quel in quel momento sembra che perché si voltano e guardano fuori dal fumetto sì l'idea è che banalmente eh tipo nel finale ho cercato di giocare con il lettore in modo che lui si aspettasse mille cose ma in realtà non c'è né una soluzione complessa né un colpo di scena la vita è così questo è un po' il senso la vita è così facci pace o restaci arrabbiato quindi ho cercato un po' di giocare con i cliché un po' il monologo in cui si cerca di dare un senso è un po' giocare con i cliché di delle classiche storie dove per forse aver imparato qualcosa una lezione invece magari non hai imparato niente però ti conosci di più e forse quello è anche importante non è che devi per forza imparare una lezione puoi anche conoscere le persone e a volte conoscere se stessi è importantissimo non so adesso magari sto un similguro questa è la fase in cui l'autore fa no perché secondo il mio modesto parere no no andrò andrò anche altre due o tre ore così beh sostanzialmente è anche importante ascoltare questo che dice lavori di notte lavori di giorno ascolti musica che tipo di atmosfera crea intorno a te allora per dormire io metto la mossa nuova perché l'unica musica che non c'è bisogno di ascoltarla perché no dipende dipende da che tipo di storia cioè la musica ti condiziona quindi in base a quello che vuoi come quando tipo ascolti la musica cazzo sono arrabbiato voglio ridere voglio ridere ascolto Elio oppure voglio qualcosa di elettrizzante devo andare in palestra quindi già noi lo facciamo di nostro l'unica cosa che faccio rispetto agli altri che dicono in base all'umore che hanno che musica ascoltano io in base alla storia che voglio scrivere che musica posso ascoltare soltanto che ho un utilizzo in più però di mi direi massima ascolto come tutti gli altri cioè per per tipo come si può dire per i miei scopi personali cioè la musica la si ascolta per godimento personale e io oltre a quello la uso anche per aiutarmi con il lavoro buttalo via è un passo per dacherarci cioè nel senso è come quando beviamo perché vogliamo un attimo rilassarci mettiamo una musica perché vogliamo rilassarci ci sono dei comportamenti che servono a dacherare perché sappiamo che in quella maniera noi otteniamo da noi stessi un certo tipo di comportamento quindi già noi lo utilizziamo la musica in questa maniera qui per hackerarci siamo arrabbiati un po' di musica metal ci aiuta a sfogarci quindi non è questo un modo per usare i cheat su di noi molto bene ragazzi quindi stavo pensando alla musica che ascolto quando faccio tapirulan ma io il tapirulan non lo faccio e quindi niente stavo divagando tornando a noi anzi andiamo verso siamo quasi a un'oretta e mezza ed è arrivato il momento la musica del soffritto quella è sempre interessante e piacevole ma quando è brutta la pubblicità quella che c'è la tizia che un certo punto ascolta il sapore del pomodoro fa tutto l'SMR ascolta guarda qui che poi c'è tutto tutto l'ingresso con il drone che entra tipo nella città la classica città partenopea che cazzo ne so se è la classica città tipo del meridione fino a che non c'è questa qui con il pentolone e i microfoni in faccia e fa i rumori non so se avete presente la pubblicità vi prego però io adoro l'SMR però io adoro l'SMR quindi ve la cerco ve la metto su Whatsapp ragazzi perché la musica è incredibile ma nessuno in chat l'ha vista io la becco spesso in tv senti non ce l'ho presente può darsi che non c'ho fatto tanto caso no non ce l'ho presente ma io non guardo tv quindi io andrò andrò ora a letto pensando a RKC che guarda quei video con le saponette che tagliano le saponette per sentire il rumore ragazzi adesso adesso me la giro a voi perché non la posso vai vai giramela così vai 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 no ma la metti adesso la metti adesso in diretta la voglio vedere adesso scusa aspetta proviamoci eccola qua abbiamo messo abbiamo messo il trailer di un film horror una volta adesso ditemi voi io non l'ho mandata io questa qui la sta cercando Luigi io me ne dissocio però ditemi cosa ne pensate questa pubblicità aspetta che un attimo solo che la partita ho tolto la adesso Gianluca la mette in loop tutta la notte no non posso stanotte però vabbè ma figure si dico di no a Balbieri ma certo che domande ma scusami anzi se lo conosci degli il numero mio si dice sia il numero uno in Italia questa cosa si dice sia il numero uno mi sembra un po' abusata pieno di numeri uni in Italia praticamente e non solo dipende che classifica sono autori che iniziano con la B occhio che inizia occhio che inizia che bellissimo aspetta che poi c'è tutto questo colpo ma perché non ho messo l'audio però non c'è l'audio vabbè non possiamo mettere l'audio l'audio non puoi le cose semplici senti qua che sembra lo senti è il sapore delle cose vere la fiammante autentica non l'avevo mai vista rimettila dal cavo vantaggio ma perché? volevo rivederla no no ma l'avevo mai vista e quindi ragazzi io non lo so ogni volta che la vedo dico ma c'è veramente una che ha detto facciamola poi una che ha detto si ci metto i soldi poi l'hanno realizzata mi piace la domanda è cosa sponsorizza la passata o i microfoni perché io penso più i microfoni della passata a me è venuta voglia di comprare un microfono infatti anche la ragazza che mi dà voglia di microfono anche un viaggio di vabbè dai siamo in fascia siamo in fascia protesta e poi ne ripariamo le battute salviamo i microfoni salvate il microfono tornando a noi è arrivato il momento che tutti coloro che ci seguono apprezzano tantissimo il format dentro il format ossia il domandone finale perché la domanda è quella che ci poniamo tutti è ma uno sceneggiatore di fumetti legge i fumetti altrui la risposta è sì la conosciamo senza altro si vede anche dietro c'è un muro vedo pile di marvel un belli belli limbella mostra belli limbella mossa sì panini mi completi deadly class grazie grazie mille che siamo a manganone l'undici dodici il tredici il quattordici panini panini completaci deadly class in attesa che panini risponda a questo domandone ne proponiamo un altro invece al nostro frect ossia quei titoli che hai letto recentemente o anche in molto indietro nel tempo che ti hanno colpito particolarmente che vuoi condividere con tutti noi così noi prendiamo appunti no di recente faccio due classiconi due che ho letto di recente io ti consiglio sempre Max Winson perché è il migliore penso che sia anche stato uno dei primi perché mescola tantissimo Spocone e fumetto europeo lì c'è proprio quell'unione delle due tipi di regia senza soluzioni di continuità che ti fa capire come ormai il fumetto è soltanto un termine regionale ma in realtà è uguale da tutte le parti non c'è più un manga comics o altro è soltanto te lo stai facendo che dà la connotazione perché banalmente si può mescolare tutto e quel fumetto lì lo rende bene mi piace anche meglio di The Last Man per quanto riguarda la regia anche contenuto molto interessante soprattutto adesso che parla di tennis poi edito da Bao se non sbaglio edito da Bao non so se si trova ancora io spero che lo ristampino o che banalmente tu non hai che sta acquistando tutti quanti i diritti di Jeremy Monroe lo ha bisogno di una grandissima nuova edizione io avrò come dato solo 20 copie e aveva darlo in giro quindi poi sicuramente per capire bene il made di un fumetto un altro cult importante per capire quali sono le sue potenzialità come espressività Asterious Polyp adesso ci sono anche gli sconti Coconino la scena d'amore quando i due si incontrano dove c'è lui architetto tutto disegnato con forme geometriche squadrate lei tutta sfumata e l'empatia il conoscersi che è l'anticipazione dell'amore quando loro iniziano a mescolare le loro figure in modo che inizino a capirsi e bastava quella tavola lì senza dialoghi per capire tutto cosa vuol dire amarsi quello ti fa capire esattamente le potenzialità espressive del medium un fumetto è un po' come per i libri la versione di Barney è un'opera che a cambiare medium pagherebbe pegno poi di recente cosa ho letto di molto bello ho letto i Treccani adesso dovrebbe essere lì di Davete e la Came dove aspetta di Mamma Aiuto Treccani aspetta che controllo bene di autori Treccani mi esce l'indicolvedia grazie mille sono loro ho letto tutta l'enceclopedia no 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 per fortuna per fortuna no quindi Mamma Mamma Aiuto che ho trovato molto bello scusami Carboni puoi puoi togliergli il video e il microfono Francesco perché che è successo questa battuta che ha fatto se ha letto tutta l'enceclopedia sui Treccani sì 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 ma tutta quando l'ho letto certo scusa l'enceclopedia sui Treccani proprio quella Cinefi no Cinofila Cinefi no Cinofila come Daveti e Laura Camelli che come sull'opera si fa chiamare la Came perché so mi è piaciuto molto il fatto di come quindi Mamma Aiuto nonostante sempre odio sempre odio palloni sempre si odierà stanno facendo questa roba qui prima di fumetti che tranquillamente si possono leggere sul loro sito in digitale però fanno queste edizioni molto piccole ve le vado a prendere perché così i cosi sono molto contenuti tipo banalmente adesso vi faccio vedere Treccani come è piccolo sì penso anche come gli altri di palloni di Mamma Aiuto insomma la dimensione è stato tipo brossurato da feltrinelli o sono più piccoli sono dei quadernetti sì alla fine ecco qua è proprio così piccolissimo tipo c'è questo qua che è di tutta la storia fumetti 8 euro mentre poi c'è Ross quello invece della Nuche che è tipo è anche quello io un'opera di 260 pagine 12 euro però in versione piccolina così quindi hanno queste edizioni molto comode da leggermente tascabili ben fatte che il fumetto non va non ci perde quindi è anche bello vedere come cercano di tenersi anche i prezzi bassi perché c'è stata un'ottimo un'evoluzione adesso dell'editoria che prediligeva i fumetti di pregio che però ammazzava i nuovi lettori cioè un ragazzino non si può prendere i cartonati a 25 euro dove sta il fumetto cioè gli spillati che ora mi costano 5 euro 48 pagine ma che ma è sequestro di persona allora comunque quello che dico io mi stai ammazzando i giovani lettori stai andando a spremere quelli che sono rimasti quindi è bello vedere delle iniziative che cercano di tenere i prezzi popolari per i fumetti perché la cultura deve essere accessibile a tutti anche che ci sia l'edizione cartonata di Dragon Ball va bene se c'è anche l'edizione sgamuffa secondo me poi oppure se c'è un'opera si mette l'edizione figa perché c'è già quella scamuffa prima bisogna smettere di rendere elitario perché vai a puntare sul collezionismo perché stai spremendo dei limoni che prima o poi muoiono cioè se ne sono quelli nuovi i lettori muoiono e fanno questa cosa questa roba qui di essere mortali che devi fare poi come ultima cosa chapeau per il discorso approvo una roba che mi fa molto strano che abbiamo parlato eccolo qua dove è ecco mi ho trovato ma dai quando parlavamo di musica è apparsa una maschera famosa nella musica lì sotto eh sì che ci vuoi fare ognuno c'ha le sue allora è una roba una collana che ho visto di bau abbiamo parlato nelle indivindicabili perché mi sono ispirato a questa per fare il capitolo di Ramiro aggiunto nella nuova versione che è in cucina con Hall & Passard non so se lo dico bene e poi cotto a puntino che sono fumetti che però sono libri di cucina cioè disegnati soltanto che banalmente si vede che bau li ha fatti scendere troppo presto vedi sono l'autore ma sono di bau questi non li ho mai visti erano di bau guarda qua la ricetta è a fianco lui che ti spiega tutto esattamente come ho poi citato in Ramiro nel capitolo del perificio questo è proprio cucina con la passata e poi invece questo è Christopher Blaine ma sono i vecchi brossolati che costavano tipo 12 euro l'uno questo costa 15 euro questo costa puntino che invece c'è un blog di cucina fatto a fuerti sono opere bellissime che però si vede che non hanno avuto successo perché era proprio una collana era graphic graphic cousin c'è scritto graphic cousin graphic cousin qui torniamo qui torniamo a quel discorso che facevi prima quelle perle che sono uscite nel momento che non sono più ristampate ma poi soprattutto c'è tutto un filone di fumetto francese che Bawo adesso ha interrotto e non fa più ci sono fumetti per ragazzi per la collana Bawo adesso è indimenticabile la Bawo l'hanno interrotta da tempo non la vedo più no ma ci sono delle opere fantastiche anche interrotte all'ultimo numero tipo c'era in animale della valle non mi ricordo però è un peccato tipo Sex Criminale è un'opera fantastica tra questi supereroi cioè supereroi questi che erano superpoteri che quando vengono fermano il tempo quindi iniziano a rapinare banche facendo sesso nel bagno sì perché per il prefattario ed è bellissimo sta opera mi fermi a quarto numero di Frank Shawn che poi ha vinto anche un sacco di premi non è che oppure banalmente Panini e fammelo mi finisci sto Deadly Class di Zio Caro che è un'opera bellissima di remendere di come si chiama Greg quello che adesso sta facendo però secondo te secondo te questa cosa non va a minare prima del lettore la casa editrice stessa nel senso secondo te questo comportamento non va a minare prima del lettore la stessa casa editrice ma è ovvio perché poi uno non se fa le robe per esempio io banalmente conoscendo i miei polli hanno fatto adesso non dirò chi perché se no si capisce però hanno fatto una grande edizione figa di un'opera che io ho sempre letto Spezia e Bocconi da lettore non lavoratore all'epoca è questa edizione definitiva ti fanno pagare i tumi un sacco di soldi poi sono le robe di stampa le robe specchiate senza i nomi poi non so se la fanno tutta quanta allora che cacchio devo buttare i soldi io ti li butto pure 50 euro l'uno eh li butto pure io però non mi può cioè e dai e dai cioè no eh quello secondo me però rientra nel discorso che è un errato marketing della casa editrice però non è il tuo marketing perché una volta che tu hai il nome io non ve lo voglio dire adesso voglio tirare l'acqua al mio mulino però salda press una cosa che sai che i volumi salda press sono volumi cioè questo è più Ramiro com'è è anche ben assemblato ci sono tipo case editrici che ti fanno il volume cartonato che poi ti rimane in mano dopo due giorni cioè la questione è che poi un'opera non è soltanto l'opera in sé per sé ma anche chi la stampa e quindi banalmente ci sono case editrici che si fanno una brutta nomia e quindi opere vengono cioè non si piega non si fanno non guadagnano perché uno dice cavoli chissà se lo fanno non lo finiscono aspetto che finisce poi lo compro perché non mi fido cioè quindi io facciamo cose con i manga facciamo cose con i manga ai tempi della Star sai quante collezioni incompleterò? quante? è un po' un po' ma però Star ha sempre completato tutto Star no? mi ha saltato qualcuno tipo Princess Resurrection mi sembra non sia stata completata prima che mi viene in mente beh anche il periodo delle miniserie italiane la Star non ne ha completate qualcuna se alcune sul mancavano due numeri e li hanno interrotte purtroppo quel periodo in cui quanto è stato dieci anni fa o più che il boom delle miniserie delle miniserie alcune non li hanno mai completate a pochissimi numeri dalla fine peccato io posso capire la scarsa vendita però sei un pubblico piuttosto brutalmente alza il prezzo degli ultimi numeri ma concludere altrimenti ti fai la nomia di quello ti conviene comprare perché tanto non so che sembra porti in fondo e quello è il problema è che tu dici cavoli io lo farei pure l'investimento ma poi l'investimento non rimango col culo per terra cioè ci sono degli errori incredibili tipo cioè ci sono tipo edizioni di russo che ti sbagliano la grafica dei volumi quindi tu ti compri tutto il volumi perché facciano un disegno e poi cioè ti sbagliare il disegno e tu dici ma ci sono dei dati cratanti proprio capisci ma io dovrei spendere soldi a volume e poi in libreria mi trovo ma no cioè io dico pure quello è importante piuttosto fate meno cose cioè il problema è che stanno vendendo troppe 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 e anche questo questa mancata di attenzione fa sì che non si percepisca che lavoro che c'è dietro poi nei volumi perché basta che nella catena di montaggio c'è qualcuno che sbaglia dall'ufficio stampa che non comunica il volume e quindi non viene conosciuto da nessuno a il proof ridere che non si accorgi di un refuso basta un errore lì in mezzo che un'opera può minare il suo successo e non arrivare a essere goduta o non arrivare alle persone giuste giusto è una questione la cassa editrice ha tante responsabilità che magari il lettore non sa è che un po' di consapevolezza darebbe una mano anche a capire come considerare una cassa editrice buona da una no tu dici come si fa a pubblicare non è pubblicare non è il problema pubblicare è che qualcuno legga il tuo full volume e per essere letto deve qualcuno deve averlo ordinato o deve essere dentro il negozio distribuirlo deve essere che sia leggibile che se non apre non si spezza o che banalmente i colori come le hai pensate tu non siano di un altro tipo c'è gente che magari anche stampare un volume non è così facile eh sì vero e quindi c'è tanto lavoro solo che questa cosa viene percepita vediamo soltanto il prezzo finale le edizioni simil pregio in un momento dovrebbero pensare a fare più persone sgamuffe e far leggere far appassionare i lettori di fondere l'opera eh certo eh sì 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 sono d'accordo assolutamente d'accordo molto bene ragazzi e con queste dichiarazioni con questa speranza direi di congedarci che che ne dite io voglio salutare il buon Frecht che ci ha tenuto compagnia svelandoci eh tante chicche insomma e soprattutto raccontandoci quella che il suo il suo lavoro e le sue beh sì dai c'hai c'hai anche questi ultimi consigli di lettura che ci ha dato io ho preso qualche appunto eh tra cui Max Winson che mi manca tra le opere di Jeremy Moreau e eh esatto non so perché non mi ha mai attratto non lo so per il fatto che il tennis non è uno dei ma a me non mi piace assolutamente però poi il tempo c'è stato un Kirkman che mi ha fatto apprezzare anche le arti marziali in Firepower per dire non sono proprio un amante del del genere però appunto bisogna aprirsi a nuove a nuove esperienze come abbiamo detto poc'anzi quindi eh ragazzi il consiglio principale è quello di prendere Ramiro e eh gustatevelo fino in fondo perché è un'opera bellissima recuperate a questo punto anche Underdogs 1 in prossimità dell'uscita del dei volumi successivi e che dire restate sintonizzati perché qui il buon Frecht molto presto eh ne ha tante da raccontarci e presto entreremo metteremo gli occhi su tante altre sue creature speriamo 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 se io torno a fare monologhi come al solito a cui la passata di pomodoro perché abbiamo già avuto un primo assaggio esatto 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 ci sarei andato nel caso Franco eh penso di no per ora non ho avuto notizie penso che ormai sia tardi per le chiamate però non si può mai sapere chi può dirlo va bene va bene se mi vogliono chiamare io sono qua altrimenti ci vediamo prossimamente a Taranto e poi a Cortona quindi seguite sui miei social per i miei spostamenti sono pochi ma sono buoni e quindi ci vediamo per non perdervi seguite ci vediamo quello è sicuro in qualche modo esatto così come noi ci vediamo così come noi ci vediamo mercoledì prossimo eh con le live ah innanzitutto ringraziamo anche chi ci ha seguito fino alle 23 e 19 e ovviamente ci rivediamo mercoledì prossimo con Luca Barbieri e Luca Enoch ci verranno a parlare di Dragonero e di Acchi e tante altre cose per cui ci rivediamo mercoledì prossimo 10 aprile per stasera è tutto buonanotte ancora complimenti ancora complimenti freccia e leggeri mi raccomando eccolo eccolo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti